Oggi si parla di solidarietà, si parla di volontariato, un'occasione anche per far riferimento a questo libro di Rocco Chiriano e Giuseppe Perpiglia, una storia di ordinario volontariato. Il volontariato sicuramente è una delle dimensioni etiche dell'uomo cui non possiamo non dare ascolto. Purtroppo il volontariato a volte viene frainteso in certi modi, in certe realtà, ma la cosa non interessa. Quello che interessa è che vorremmo interessasse anche gli enti decisori, che il volontariato è sicuramente qualcosa su cui puntare e soprattutto non basta e non bisogna fare il volontario. Bensì essere volontario è una cosa ben diversa, che prende tutto l'essere dell'uomo, il suo modo di comportarsi, il suo modo di operandi. È un pochino difficile, un pochino impegnativo, però dà tante tante soddisfazioni ed è anche un grande ritorno per quello che riguarda la comunità tutta. Sì, è giusto, perché tra le altre cose dobbiamo dire che lì dove c'è il volontariato c'è attenzione per una società fragile, una società come quella di oggi nostra, dove tanti sono i punti critici e dove realmente chi fa volontariato, chi ha il coraggio di essere solidare con queste persone, riesce anche a dare a loro un sospiro di sollievo. Il Gingmund Bauman parlava di società liquida, parlava di società disgregata. Ecco, in questa disgregazione quelle che sono più fragili, almeno dal punto di vista emotivo, sono sicuramente i giovani, che hanno da sempre bisogno di un modello, hanno da sempre bisogno di un qualcosa, di un punto di repere a cui aggrapparsi. Ecco, il volontariato, ovviamente parliamo del volontariato, quello con la V maiuscola, sicuramente può rappresentare una cosa del genere. Bene ha fatto l'Avest Nazionale con il gruppo Scuola a proprio tracciare delle linee, fare delle proposte didattiche e pedagogiche per le scuole italiane su questo aspetto. Il volontariato si lega, si sposa benissimo con il relativamente nuovo insegnamento di educazione civica. Ecco, potrebbe essere veramente la via maestra per fare cittadinanza attiva, vissuta. Così come la stessa cosa possiamo dire per il service learning che il volontariato è, come dire, il cacio sui maccheroni. Passatemi là. Oggi si parla tanto di una società fragile, una società liquida, si parla di giovani che hanno a che fare con genitori che sono adulti, adolescenti. C'è bisogno quindi anche di inserire in tutto questo quello che è la solidarietà e il volontariato di chi vuole aiutare questi giovani? Il volontariato, in questo caso voglio dire, è il potere di fare le cose per gli altri e proprio per coloro che sono fragili e deboli. I giovani vivono di esempi. Allora, se il nostro esempio è positivo, i giovani che sono come spugne e assorbono tutto quello che vedono e sentono e vivono intorno a loro, assorbono le parti positive della società, per cui siamo noi che dobbiamo dare gli esempi ai giovani e indirizzarli verso una strada. Le strade sono due, o verso il bene o verso il male. Se noi lo indirizziamo verso il bene e con i nostri esempi creiamo situazioni di altruismo, di dono, dono nell'essenza della parola, allora creiamo una società solidale. È quello che dovremmo tendere tutti quanti i meno giovani. Cioè quello di creare una società solidale per cui le istituzioni, le amministrazioni, gli enti sanno o potranno sapere di contare su una società che sta intorno che al momento giusto, al momento opportuno e non solo nelle emergenze, sono lì pronti a dare una mano a risolvere i problemi di chi i problemi non è in grado di risolverli da solo. Cioè è quello di aiutare. Io cito una frase di un mio amico prete che dice aiutiamo chi non ha diritti ad avere dei doveri.